Sandro Bonaceto lascia il Consiglio Comunale. L'ex candidato a sindaco della coalizione progressista Via Regio Libera, di cui è risultato l'unico eletto, ha annunciato lunedì sera ai suoi sostenitori e colleghi le proprie dimissioni da consigliere comunale. La mia decisione è dovuta esclusivamente ai miei nuovi impegni lavorativi, ha fatto sapere il manager, ex dirigente di Confindustria, impegni che mi impedirebbero di seguire efficacemente con continuità le attività del Consiglio e delle commissioni, che oltretutto e assurdamente, ha commentato, sono convocate tutte in orario di lavoro. L'uscita di scena di Bonaceto, appena quattro mesi dopo le elezioni, in cui raccolse l'8% dei voti, apre le porte dell'assise comunale al primo dei non eletti, l'avvocato Tiziano Nicoletti, come noto impegnato nella causa sulla strage ferroviaria del 29 giugno, come legale di parte civile dei familiari delle vittime. Per le dimissioni infatti Bonaceto ha atteso che terminasse il processo in Cassazione. Nicoletti, da sempre molto attivo in città, in passato estia nel Carnevale che nel Viareggio Calcio, molti un anno fa lo avrebbero voluto come candidato sindaco e alla sua prima esperienza in Consiglio. Entrerà nel gruppo misto all'opposizione di De Ghingaro. Sono onorato, emozionato, pronto a servire nel mio piccolo la mia città. Entro con spirito di servizio, senza particolari ambizioni personali. Sono queste le prime parole dell'ormai consigliere comunale.